Guarda, io non è che non sono convinto, è che a me sembra abbastanza chiaro a questo punto che veramente la mia vita è la tua morte, no? Dunque, quando vige questa regola, l'abbraccio è un di più, cioè lo prendo volentieri, però penso che quello che abbiano fatto sia Giulia che Pierpaolo sia chiaramente... E poi me la possono condire dicendo che entrambi erano mossi da sentimenti per altri, però mi sembrano due scelte, che poi sono la stessa scelta, abbastanza sullo stesso pezzo, ecco. C'è da dire anche un'altra cosa, posso dire un'altra cosa? Se io avessi votato Tommaso, Tommaso comunque non sarebbe andato nella candidatura. C'è un problema di andare in finale, però anche tu, anche nella clip che si è rivista sta roba, con questo leitmotiv che io sono quello che merita la finale, che io tanto in finale ci vado lo stesso, che tanto io, 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 poi alla fine quando c'è da dimostrarlo nessuno lo fa. Io non ne faccio un problema di dover andare in finale adesso, cioè lo sai bene Alfonso che io qua dentro... Ma di lealtà più che altro, no? Comunque, ragazzi...